Ma che novità! Ma che novità! Non l'avrei mai detto, giuro, anche voi non l'avreste mai detto, ci scommetto che ad aiutare la Juventus a fare le sue porcherie ci fossero degli altri club. Ma che novità! Quando ho sentito il sassuolo ho detto, ma non l'avrei mai detto, perché Locatelli ha comprato alla cazzo di cani. L'Atalanta! Ma che novità! L'Udinese che si compra un mandragola a 26 milioni! Che novità! L'avreste detto voi? Io no! No! Invece mi sono sorpreso del Cagliari, del Bologna e della Sampdoria, quelli mi sono sorpreso. Però quelle tre squadre qua, Udinese, Atalanta, Sassuolo, è da un po' che danno la mano alla Juve, l'abbiamo sempre detto, sempre sostenuto. E allora io dico una cosa. Sotto questa cupola, gestita dalla Juventus, che poi alla fine c'è Udinese e Atalanta, sono ancora creditori della Juventus, stanno aspettando ancora del denaro. In che forma? E' lì il problema! Furbacchioni Juventini! Certo che cazzo! Le inventano davvero tutte queste copie! Cioè hanno fatto, hanno creato un sistema da capogiro! Però io credo che non ci voleva il mago Zurli a capire. E' sempre la solita storia. Ci sono gente tipo Gravina che sta lì così. Devono arrivare esternamente a scoprire cose che noi tifosi dicevamo da anni. Va bene. Io non dico nulla perché comunque fino, cioè sicuramente queste sei squadre porteranno le loro prove e magari sono tutte pulite. Dico solo che se hanno aiutato la Juventus realmente a fare i suoi giochetti, come viene punita la Juve e deve essere punita severamente, devono essere punite. Anche se non hanno ragione i tifosi della Juve, punite solo noi, abbiamo fatto tutto da solo. No! Tutte le squadre di Serie A devono capire che non si aiuta i ladri. Raga, capitolo Magic. Megnan, speriamo. Io adesso attendo la conferenza stampa di Pioli, però se sta bene deve giocare. A me non mi interessa che è fermo da 4-5 mesi. Se sta bene deve giocare. Meglio megnano, zoppo, che tatarusano, sano. Giroud è molto vicino al rinnovo di contratto, l'ha detto lui. Ha detto che a Londra spera che segnare Kettler, lo speriamo tutti. Se segnare Kettler a Londra io mi metto a piangere. Cioè faccio un video che piango con la testa sopra il tavolo. Leao invece, raga, ne abbiamo parlato brevemente un po' anche ieri. Ormai penso che anche quei fessi che sui loro canali YouTube, quelli che sanno sempre tutto loro e che dicevano che rinnovava. Ecco, penso che anche loro ormai non si credono più. L'importante è venderlo bene e venderlo il prima possibile. Non a fine agosto, perché se lo vendi a giugno, poi hai due mesi per sostituirlo. Questo io dico. Che poi io sia incazzato. Perché non avviene il rinnovo. Questa è un'altra cosa. Un conto è essere incazzato. Io sono incazzatissimo. È un conto però essere intelligenti e dire se sei così, coglione, da non riuscire a rinnovare. Leao, gran presidente di merda. Vendilo almeno bene. Iscrivetevi al canale e sempre porza Milan. Pollice in su a Bezzinero. Dai, dai che dobbiamo battere la tanta.